Ciao e benvenute! Oggi parleremo della spazzolatura secco che consiste nell'esfoliare la pelle tramite l'utilizzo di spazzole e setale naturale. Questi sono i vantaggi della spazzolatura secco. Purifica la pelle migliorandone l'ossigenazione e la pulizia. Stimola la circolazione sanguigna e la circolazione linfatica, migliorando l'aspetto della pelle, riducendo gonfiori e cellulite. Rilassa e riduce lo stato di stress. Aiuta a portare fuori calore provocato da emozioni represse o tensioni interiori. Spazzola delicatamente dal basso verso l'alto. Prosegui allo stesso modo all'esterno della gamba. Suddividi l'addome in due parti e spazzola dall'esterno verso l'interno. esegui gli stessi movimenti per glutei e schiena. Piccole spazzolature sul petto in direzione dell'ascella. Passa la spalla dall'interno verso l'esterno. Concludi con le mani e le braccia, sempre dal basso verso l'alto, prima internamente e poi esternamente. Spazzolatura secco, la pratica ideale per portare equilibrio a noi stessi. Grazie.